Ci sono amiche bianco-celesti dal ritiro di Auronzo Di Catore, nono giorno di preparazione per questa nuova stagione bianco-celeste agli ordini di Mr. Petkovic. La Lazio oggi è entrata, come ha detto Paolo Rongoni, nella fase 2. Praticamente la fase che dovrebbe essere meno atletica e più tattica, almeno sulla carta, anche perché oggi si è tornati a correre tra le tre cime di Lavareto a Bordo Lago, a Bordo Lago di Santa Caterina, soltanto però per sei calciatori che devono recuperare i minuti mancanti e riequilibrarsi dal punto di vista della preparazione con gli altri uomini e gli ordini di Mr. Petkovic. Allora stamattina è stato un cattivo risveglio, se così si suol dire, senza colazione per Mauro Sarate, per Juan Pablo Carrizzo, Senad, Lulice, Alvaro Gonzales e Onazzi. Loro, dietro Mr. Petkovic e dietro Paolo Rongoni, hanno percorso 5,5 chilometri canonici che per la terza volta sono andati sul taccuino di questa avventura di Oronzo Dicatore, di questa preparazione ad Oronzo Dicatore. Poi tutti di corsa al campo, primo allenamento, quello mattutino, doppia seduta come al solito, anche oggi si è lavorato veramente di più sulla tattica, almeno la mattina. Petkovic vuole guardare tutto da vicino. Per quanto riguarda la difesa, ha diviso il gruppo in due parti, da una parte con un centrocampista che è quello che corrisponde al nome di Redesma, all'altra parte invece è Zana, quindi governati dai due centrocampisti che sono considerati da Petkovic più degli incontristi che non dei registi. L'azione deve partire sempre dalla difesa, questo è stato l'ordine di Mr. Petkovic, palla a terra, nessun lancio lungo, suggerimenti per gli esterni e poi, nella fase difensiva invece, mantenere le posizioni e non incrociare e andare in pressing. Questo è il Petko pensiero di oggi per quanto riguarda la difesa, ma è stato lo stesso pensiero che poi ha ricalcato l'allenamento dell'attacco e della trequarti, perché successivamente alla difesa c'è stato il cambio, gli altri sono andati in palestra agli ordini di Mr. Rongoni, il preparatore atletico della Lazio, i centrocampisti, i trequartisti e gli attaccanti sono scelti sul campo per dividersi nei canonici due gruppi, così come è successo per i difensori agli ordini di Mr. Petkovic. Anche qui un solo portiere stavolta, Federico Marchetti in porta per bombardarlo a vicenda, da una parte Sarate, dall'altra parte Ederson, da una parte Hernanes, dall'altra parte Don Masorocchi per innescare il movimento delle punte. I trequartisti hanno cercato di favorire gli esterni, così come poi dall'altra parte invece quello che dovranno difendere hanno tenuto sempre le posizioni e questo è un pensiero fisso di Petkovic operando tanto, tanto pressing. C'è stato un infortunio, questo dobbiamo dirlo, è forse l'unica nota negativa di questo ritiro di Auronzo Dicatore ed è proprio l'unico acquisto della Lazio nel calciomercato, ed è successo ad onorato Campos Ederson, tra l'altro tra i più in forma di questa Lazio, tra i più ispirati, oltre che tra i più applauditi, perché giocogliere autentico, giocatore ricco di doti tecniche, incredibilmente sta rubando la scena anche ai big di questa Lazio, a coloro che fino adesso hanno vestito una maglia bianco-celeste. Un infortunio, un contrasto con Hernanes, il suo connazionale, loro che sono, come ho sempre scritto anche su Laziosiamone.it, più pratici nel costruire azioni che non a rubar parla agli avversari, si sono scontrati e poggiando male il piede, Ederson ha girato il ginocchio, c'è stato lo stiramento del collaterale del ginocchio destro. Cinque giorni di assoluto riposo, questo è il risponso del professor Salvatore, il dottore medico sociale della Lazio, più qualche altro giorno per il ricondizionamento attetico, rischia quindi di saltare la parte finale del ritiro di Auronzo. Onorato Campos Ederson, che però oggi nel suo Twitter, lui è praticamente su Twitter tutti i giorni a dispensare emozioni e sensazioni, ha detto che è stato il primo infortunio, è capitato proprio a me, però presto tornerò in forma per la Lazio. Per il resto, cosa c'è da dire? Che nel pomeriggio invece la Lazio è tornata nella partitella a campo ridotto a dividersi in due squadre, c'è sempre una linea comune negli allenamenti di Petkovic, nonostante poi si cambi molto da una giornata all'altra, cioè la difesa a quattro. Quattro sono i difensori che Petkovic vuole nella sua Lazio, due centrali e due esterni, Diess e Diachite, sembrano essere gli uomini indicati da Petkovic per giocare da titolare in questa nuova Lazio, con Biava che comunque incalza la sua esperienza, non passa inosservata dal mister Petkovic, sempre in attesa di un difensore sul mercato. Si punta molto a Xandau, capiremo nei prossimi giorni, anche perché sta per arrivare Iglitar e Diess della Lazio nel ritiro di Auronzo Di Catore, se si sono fatti i passi avanti per il brasiliano. Sugli esterni, da una parte con Co, dall'altro si spera di poter ottenere Balzaretti, però lì la battaglia è ancora aperta, c'è sempre Garrido che incalza, però non sta meravigliando, non sta strabiliando in questo ritiro estivo. Centrocampo, si sono variati due moduli, 4-3-1-2, 4-4-2, con qualche chance in più di vedere realizzato questo secondo modulo nella Lazio di Petkovic. Le Desma che si gioca un posto con l'Orixana, e come vi avevo detto prima, anche nella preparazione di oggi, Zana da una parte e le Desma dall'altro, compongono questa coppia che si gioca una maglia nella nuova Lazio, a fianco alle Desma che attualmente sembra ancora un tantinello in vantaggio rispetto all'Orixana che comunque sta incalzando l'argentino, potrebbe giocare Hernanes che è sempre di più uomo regista della Lazio di Mr. Petkovic e nonché trequartista come invece era stato per la formazione di Eddie Reia. Ederson fino ad oggi è stato il titolare inamovibile, una volta esterno sinistro, una volta trequartista, comunque resta una petina fondamentale per questa Lazio nonostante l'infortunio. In avanti c'è posto per Close che ovviamente qui non c'è, ritornerà nel ritiro di Fiuggi, quindi in estate, tornerà dopo la sua meritata vacanza successiva all'esperienza all'Europeo. In avanti una maglia per alcuni attaccanti che ancora sono in rosa, c'è Zarate che potrebbe finire sul mercato ma vuole restare la Lazio, c'è Tommaso Rocchi il capitano, c'è Flocari che piace molto a Pescara e piace anche al Torino, nonché al Verde del Brema, ci sono tante squadre che vogliono l'attaccante calabrese. Vedremo poi il mercato dove porterà Sergio Flocari. Attualmente possiamo dire che forse Zarate, per doti tecniche, ma anche per la sua condizione fisica, sicuramente migliore rispetto agli anni passati, sta in vantaggio rispetto a Rocchi e a Flocari. Quindi per tutti coloro che vogliono sognare ancora ci sono buone chance di vedere un attacco con Miro Close e Mauro Mattias Zarate. Da Oronzo Dicatore per il momento è tutto, non a giornata che si conclude così, appuntamento a domani con i nostri inviati da Oronzo Dicatore della LazioSiamoNoi.it e della LazioSiamoNoi.itv